ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati è un po che non ci sentiamo ma vi voglio subito far vedere questo nuovo arrivo è uno starter per l'avviamento rapido che serve per avviare il motore dell'auto in caso che la batteria dell'auto appunto si scarichi ovviamente si può usare su qualsiasi tipo di auto ma specialmente per la cascari che non ha batterie proprio eccezionali è comodo averlo appresso specialmente in inverno le batterie di tutte le auto sono più soggette a scaricarsi e purtroppo non ci danno nessun preavviso magari da un momento all'altro la batteria non dà più la giusta potenza al motorino di avviamento e non riesce più a partire l'auto quindi questi prodotti qui secondo me conviene averli appresso per evitare spiacevoli sorprese magari chiamare carattrezzi magari chiamare amici con dei cavetti tutta la perdita di tempo tutto lo sbattimento eccetera eccetera con questi prodotti qui non abbiamo nessun tipo di problemi lo colleghiamo molto facilmente e avviamo di nuovo il motore ho scelto nuovamente questo marchio della top don poiché ne parlano molto bene in molte recensioni e anche io sono rimasto colpito dalla qualità del prodotto detto questo andiamolo subito a vedere eccolo qui già si presenta bene poiché è racchiuso in questa valigetta rigida e non in quei sacchetti in tessuto economici eccolo qui cominciamo a vedere sempre il piccolo manuale che esce nella confezione purtroppo non c'è la lingua italiana c'è inglese tedesco e giapponese però non è un problema è molto molto intuitivo per l'utilizzo vi voglio far vedere ora i cavetti perché a volte vengono sottovalutati questi cavetti tutte le attrezzature per avviare il motore sono molto molto importanti prima di tutto non sono quei piccoli morsetti che sono talmente piccoli che in mano non si possono nemmeno prendere già hanno una certa grandezza sono più professionali ecco vedete raga sono grossi in più hanno questa molla all'interno come anche altri morsetti che però è molto molto rigida quindi la pressione che si farà poi sul morsetto della batteria non ci darà problemi che può saltare via quindi una volta ancorato rimarrà lì in più vediamo che sono di rame molti sembrano di rame ma non sono di rame e anche lo spessore del morsetto la parte il rame è abbastanza spesso perché se abbiamo dei materiali economici qui anche la potenza dello starter vero e proprio poi andrà a calare in modo da avere veramente una scarica di corrente molto elevata ovviamente qui la parte della centralina che poi andremo meglio a vedere ma vi dico subito che ci abbiamo il led rosso se in caso abbiamo sbagliato a collegare i cavi o c'è un falso contatto o c'è un problema di collegamento sulla batteria e poi il led verde che quindi ci dà la sicurezza che è tutto collegato bene possiamo avviare il motore e qui abbiamo il pulsante boost che serve in caso che la batteria dell'auto si scarichi completamente che praticamente non dà nessun segno di vita magari la batteria può essere interrotta quindi non dà più nemmeno cinque volte otto volte quello che sia e quindi questo pulsante qui ci dà la massima potenza qui il collegamento il collegamento raga come vedete non può non può essere messo sbagliato sullo starter vedete qui uno è rotondo l'altro è rotondo ma qui abbiamo la parte la parte piatta e quindi automaticamente non può essere messo diversamente andiamolo subito a vedere vi faccio vedere prima il cavetto per la ricarica questo è un cavetto con attacco tipo c quindi basta utilizzare qualsiasi carica batteria di cellulare ecco ad esempio i samsung utilizzano questo tipo di connettore qui quindi basta collegarlo con la porta usb a un qualsiasi caricabatterie e poi collegarlo qui allo starter andiamolo a vedere eccolo qui raga si presenta bello massiccio lateralmente antiscivolo e anche protetto dall'acqua faccio vedere velocemente come fatto lateralmente eccetera eccetera parliamo di qualche numero qualche potenza velocemente la massima corrente di spunto e 2000 ampere quindi abbiamo una buona 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 potenza mentre come power bank siamo a 16.000 milan per ora ora vi faccio vedere le varie porte qui abbiamo una uscita di c da 16 volts quindi possiamo collegare anche nelle piccole attrezzature mini frigo non so altre cose che possiamo tenere in auto mentre qui nella parte proprio anteriore abbassando abbiamo il collegamento per i cavetti qui abbiamo una porta usb per collegare smartphone appunto di ogni genere tablet quello che vogliamo questa è la porta usb con carica rapida 3.0 e questa è la classica normale porta usb quindi qui è molto più veloce la carica poi abbiamo quest'altra porta qui che come vi dicevo serve per ricaricare con il cavetto type c ecco qui vedete per caricarlo e poi nella parte posteriore abbiamo dei led e questi fanno molto comodo se appunto dovesse succedere di sera che l'auto non parta schiacciando qui il pulsantino sopra ecco qui abbiamo una buona luce led abbastanza luminosa e può fare anche dei lampeggi di emergenza di sos eccetera eccetera vedete ok mentre qui nella parte superiore abbiamo i led di carica 25 50 75 al 100 per cento di carica ecco qui dopo qualche secondo si spegne da solo ecco al momento abbiamo il 50 per cento vi consiglio di non prendere mai quelli piccolini da mille amperora che non hanno grossi spunti e in più magari proprio nel momento del bisogno non garantiscono proprio quella grossa potenza io consiglio di prendere almeno da 1500 in su vediamo qualche altro dato tecnico il produttore indica che è possibile avviare delle auto a benzina fino a 8.000 di cilindrata e delle auto diesel fino a 6.000 di cilindrata ovviamente poiché ha una buona potenza oltre alle auto si possono mettere in moto anche camion macchine sportive ovviamente e anche per il reparto nautico delle barche quello che sia quindi anche penso macchine in movimento terra macchine industriali che hanno bisogno di un buono spunto che hanno già dei motori più grossi in più è provvisto anche di alcune protezioni per la temperatura se sbagliamo polarità eccetera eccetera che poi andremo a vedere con calma quindi direi che è un buon buon prodotto ovviamente trovate sempre sotto in descrizione del video il link per chi lo volesse acquistare vi volevo anche segnalare che per pochi giorni è disponibile su amazon con uno sconto di 30 euro questo in linea generale alcune informazioni sul prodotto ora direi di andarlo a provare e vediamo come si comporta eccoci qui ragazzi cominciamo a vedere qui sulla batteria ovviamente troviamo prima il cavetto positivo che sarebbe questo rosso ovviamente vedremo anche il più sopra questo qui ovviamente quest'altro è il negativo andiamo a prendere lo starter quindi collegheremo qui ragà come dicevamo prima non possiamo sbagliare è una presa obbligata ora se volessimo collegarlo in modo errato ecco vedete ragà non andrebbe ora andiamo a collegarlo correttamente ecco qui e vediamo che già automaticamente lo starter si è avviato si sono accesi i due led che ci indicano che al momento è al 50 per cento ok ora andiamo a collegare sulla batteria prima di tutto diamo un'occhiata alla batteria giusto per essere sicuri di quello che facciamo ovviamente il positivo è il più questo rosso che sicuramente tutte le auto avranno qualcosa di rosso per farvi capire che il cavo positivo mentre l'altro ovviamente è il cavo negativo molto probabilmente avranno dei coperchi magari come questo solo su quello positivo o anche su quello negativo comunque un coperchio che basta solo sollevare e dopo possiamo collegarci il booster ok ora andiamo a collegare sulla batteria anche qui ragà come vedete abbiamo il positivo che quello rosso e il negativo è quello nero andiamo a collegare qui ragà mi raccomando cercate di trovare sempre un punto ben saldo sul polo dove mettere i cavetti morsetti ecco qui e ora andiamo subito a vedere qui vedete raga questo led verde che ci indica che il collegamento è corretto e possiamo avviare il tutto e stiamo tutto in sicurezza altrimenti si sarebbe accesa la luce rossa vedete e quindi c'era qualche problema e non potevamo avviare il motore ora facciamo una prova qui abbiamo il pulsante boost poiché la batteria dell'auto in questo caso non è scarica stiamo facendo solo una prova il pulsante boost se lo schiaccio ha fatto lo scatto però si è scollegato vedete è ritornato in modalità normale perché la batteria non sta sotto i 9 volts quindi non è così scarica da poter essere necessario attivare il boost fatto questo ora già possiamo avviare il motore facciamo giusto una prova poi faremo un'altra prova successivamente andiamo sempre a togliere qualsiasi oggetto dal motore prima di avviare mi raccomando ragazzi è importante ovviamente raga è partita perfettamente come sentite anche il motorino ha girato molto velocemente e ora ovviamente la si può scollegare ora andiamo a fare una prova senza batteria in modo da simulare una batteria completamente scarica anche una batteria interrotta ad esempio che non ha più nessun voltaggio così facciamo una prova completamente da zero ok ora andiamo a scollegare una chiave da 10 mm quando si va a scollegare la batteria raga non dimenticate staccate sempre per prima il polo negativo quindi quello che ha il filo nero allentiamo bastano due tre giri ecco qui e andiamo a scollegare ok ora andiamo a scollegare il polo positivo e abbassiamo e lo poggiamo qui così non abbiamo nessun tipo di collegamento con la batteria anche qui raga per il polo negativo quindi ora è come se la batteria ovviamente non ci fosse andiamo a collegare tutto come prima per i cavetti che abbiamo in mano vedete ora abbiamo tutto collegato non abbiate paura perché anche se si toccano in realtà loro in questo momento non hanno corrente la corrente la rileverà solo quando verrà collegato sulla batteria ora come vi dicevo prima poiché lo starter non rileva nessun tipo di tensione perché l'abbiamo staccata la batteria vedete qui non ci da nulla quindi per lui la batteria è completamente scarica e quindi noi dobbiamo collegare il pulsantino boost vedete e ora è alimentato ora avremo mi sembra una trentina di secondi per provare se non lo facciamo in questo periodo si scollegherà da solo ecco qui ragazzi vedete passati i tot secondi si è scollegato andiamo di nuovo a schiacciare il pulsantino di eccolo qui e ora avviamo il motore raga come avete sentito è partita proprio perfettamente ho voluto fare questa prova con lo starter carico solo al 50 per cento vedete raga quindi non è nemmeno molto molto carico siamo appena al 50 per cento e non ha avuto nessun tipo di abbassamento l'auto è partita perfettamente ok ora andiamo a ricollegare i cavetti qui raga se vi capita di scollegare i cavi o di cambiare la batteria mettete sempre un po di grasso sui morsetti ora facciamo una prova di sicurezza simuliamo di sbagliare quindi per errore mettiamo i cavi all'incontrario il più con il meno ecco qui sentite va in protezione e emette anche un suono acustico che ci avverte dell'errore e anche il led sotto se è acceso perfetto ok ragazzi direi che i test sono stati superati per questo video è tutto grazie e al prossimo video